ariete il cielo astrale sta mutando e placa le vostre asperità l'irruenza che a volte crea qualche contrasto con gli altri l'amore ancora non risponde come vorreste ma la comunicazione diventa più fluida le idee si chiariscono e la disponibilità aumenta toro la luna nel segno vi inclina percezioni emotive positive si amplifica la vostra sensorialità anche se un marte ancora dissonante potrebbe creare qualche piccola tensione qualcosa si muove in ambito lavorativo occhio alle novità gemelli le faccende di cuore sono in pausa in attesa di decisioni o incontri che a breve arriveranno sollevati da atteggiamenti più ottimisti potete iniziare a porre le basi di un programma che vi sta particolarmente a cuore le trattative sono favorite cancro migliore allo stato d'animo probabilmente riprenderete in mano le fila dei vari rapporti che avete un po oscurato in una lontananza psicologica che ha creato qualche disagio la luna positiva oggi allarga le sensazioni e vi regala serenità leone il vostro quadro astrale non ha colori brillanti la sensazione di essere un po fuori forma prosegue vi sentite insoddisfatti e confusi dovrete sfoderare le armi migliori che possedete e superare questo breve periodo che mette alla prova la vostra pazienza vergine buona emotività che vi orienta ad aperture sentimentali a ricercare affetto ed esprimere la voglia di amare il momento è favorevole per molti aspetti della vita oltre quelli amorosi ma richiede un certo impegno sia a livello fisico che di perseveranza bilancia elaborata ed assimilata la necessità di apportare alcuni cambiamenti anche profondi adesso dovete pianificare le strategie migliori per giungere alle vostre mete siete in grado di equilibrare le varie situazioni con l'abilità diplomatica scorpione la luna opposta oggi distorge le emozioni e vi rende un po aggressivi spinosi moderate la vostra ombrosità e rendetevi disponibili alle richieste delle persone che amate potreste ottenere benefici inaspettati e più armonia sagittario una ripresa nel settore della comunicazione dei rapporti interpersonali caratterizza la giornata che però non vede novità di grande spessore l'amore è un po in ombra forse state bene nella vostra situazione e non avete al momento aspirazioni diverse capricorno il buon cielo astrale che vi riguarda esalta le vostre qualità ed ammorbidisce anche l'affettività un po riservata che generalmente fa parte della vostra indole la luna armonica concede spazi di positiva ricettività che accompagna la giornata acquario l'ingresso di mercurio nel vostro segno accresce le possibilità di essere disponibile alle relazioni con chi vi circonda ad accentuare il fermento mentale e la voglia di muovervi nonostante il tono dell'umore oggi non sia troppo alto riuscite a vivere positivamente pesci le questioni sentimentali sono favorite luna e venere armonici permettono l'intima inclinazione verso gli aspetti più sentimentali ma anche di bellezza di arte della vita coltivate immaginazione e sensibilità ma cercate di rimanere legati un po anche al materialismo buone stelle